Amato, e possedici in testesso. Alleluia, alleluia. Amato, alleluia. Alleluia, alleluia. Insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa varia un po' caotica del nostro tempo, che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana di solidarietà. La gioia del Vangelo è per tutti, per tutto il popolo. Non può essere escluso alcuno. La terza voce è del profeta Isaia. Una voce che promette speranza ai poveri, forza ai malati, liberazione agli schiavi e prigionieri. Quella stessa voce risuona oggi nel deserto delle città, dove c'è assenza di Dio. Vi sono tante forme di deserto. Il deserto della povertà, della fame, della sede. Il deserto dell'abbandono, della solitudine, dell'amore distrutto. Il deserto dell'oscurità di Dio, dello svuotamento delle anime senza più coscienza di dignità e di cammino dell'uomo. I deserti esteriori si moltiplicano, perché i deserti interiori sono diventati altri. E noi, la Chiesa, deve condurre i nomi di fuori dal deserto a colui che dona a vita in pienezza. Non vi è niente di più bello che essere raggiunti, sottresi dal fratello di Cristo. Non vi è niente di più bello che conoscerlo o comunicare ad altri la sua amicizia. Il compito del Vescovo allora è bello, perché è un servizio alla gioia che vuole fare il suo ingresso nel mondo. Mi mandano una chiesa singolare per storia e temperamento civile. Qui non mancano i segni della santità, i certatori della verità, i testimoni della carità. Carissimi, pregate per me perché impari sempre di più a lavare il Signore. Pregate per me perché impari a lavare voi sempre di più voi che siete il suo bene. Preghiamo gli uni per gli altri perché impariamo a portarci gli uni gli altri. Siete iniziati sempre di più. Questo invito di Paolo alla gioia caratterizza anche la dieta dominica. detta, capite, adesso risuona sì dalle prime parole. Vito, la lega e la lega di grazia, il Signore con te ci indica la via per raggiungere la vera gioia, quella che proviene da Dio così sia. Grazie. 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 Grazie.